Io vorrei partire con una domanda, così, per provare anche un po' a svegliarci dopo il pranzo. Se la scienza lo permettesse, voi quanti anni vorreste vivere? Quanto lunga dovrebbe essere, secondo voi, la vostra vita? Pensateci un attimo. Potete anche rispondermi, se volete. 70 anni, 80, 100, 1000, magari di più? Non so, come? 120 precisi, ok. Vabbè, rispettabili. Non so se vi siete posti mai questa domanda, io la sono fatta qualche volta. E la risposta che personalmente mi sono dato è che sinceramente la domanda non mi interessa molto. Mi dispiace per i 120 anni, però. Ritengo che non sia questa la domanda da porsi, che non sia prioritario, meglio. Perché la domanda che veramente, secondo me, è rilevante, importante da affrontare, a cui rispondere, è come potrei, come potremmo, avere una qualità della vita ottimale. Quindi essere in piena salute, al massimo delle nostre funzioni, fino all'ultimo giorno, all'ultimo minuto della nostra vita. Questo, secondo me, è una priorità. E penso, quindi, di conseguenza, che l'umanità deve concentrarsi sulle sfide giuste. Quindi, se posso permettermi anche di ricollegarmi ai talk di stamattina, l'umanità deve affrontare il cambiamento climatico, subito, perché è urgentissimo. Deve trovare cure per malattie genetiche che colpiscono bambini, milioni di bambini, che sono terribili. E subito dopo, però, o meglio ancora, in parallelo a questo, deve, secondo me, provare a sviluppare tecnologie che aumentino più possibile la qualità della vita delle persone. E non che l'allunghino. Quindi noi non abbiamo, secondo me, bisogno di vivere 100-120, magari sì, però non 150 anni, 200 anni. Non è questo che ci serve. Ci serve viverla al meglio. E la bioingegneria si occupa di questo. Quindi io, insieme a voi, vorrei capire un po' come siamo messi, a che punto siamo con queste tecnologie, e provare anche a capire qual è la prospettiva da qui al 2050. Partirei dal diabete, come primo esempio. Più di 100 anni fa, chi si ammalava di diabete, tipicamente bambini e adolescenti, purtroppo aveva un'aspettativa di vita ridottissima, di pochi giorni, di poche settimane, perché non c'era una cura. E poi, 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, fu scoperta l'insulina. E questo ormone, questa invenzione, ha salvato la vita di milioni di persone. E l'aspettativa di vita, di fatto, oggi, per i pazienti diabetici, è paragonabile a quella dei soggetti non diabetici. Quindi potreste pensare che il problema è risolto, non c'è più da fare niente, già 100 anni fa era stato risolto. Ma non è così. Perché questo allungamento dell'aspettativa di vita ha un costo, di fatto. E questo costo è la necessità di aderire costantemente a una terapia tutti i giorni, senza eccezioni. Quindi, tutti i giorni, senza eccezioni, un paziente diabetico deve bucarsi un dito, far uscire una goccia di sangue, misurare il livello di glucosio nel sangue, e poi iniettarsi una certa, precisa quantità di insulina, tipicamente con punture nella pancia, con dosatori, cose del genere. E capite bene che si può far meglio, cioè la tecnologia può migliorare la qualità di vita di queste persone. E bisogna puntare a questo. Ora, qual è l'ottimo, qual è il sogno di un bioingegnere in questo campo? Il sogno sarebbe di avere, diciamo, degli omini miniaturizzati, immaginiamoceli così, che stiano all'interno del corpo, che facciano tutto loro, che risolvano il problema, che facciano quello che fa l'organo naturale sano, e che noi non ce ne accorgiamo neanche, quindi che non interferiscono in nessun modo con la nostra vita. E vediamo un po' a che punto siamo con questi omini. Negli anni 70 sono stati introdotti per la prima volta i cosiddetti pancreas artificiali. Erano delle macchine, come quella che vedete qua, nell'immagine. Questa fu la prima, il cosiddetto biostator, nel 77, che automaticamente, da sole, misuravano la glicemia e iniettavano l'insulina nel corpo del paziente. Quindi facevano le azioni che dicevo prima, quindi liberavano in qualche modo il paziente dal doverle fare. Però, ecco, questo sistema funzionava. Funzionava anche abbastanza bene, però aveva un piccolo difettuccio, che magari potete intuire anche voi, che è più grande del paziente stesso. Quindi, altro che miniaturizzato, era un oggetto che era lontanissimo dall'essere portabile e di fatto usabile. Però sono passati vari decenni, oggi siamo nel 2021, e la bioingegneria ha fatto dei passi avanti notevoli. Oggi i pancreas artificiali sono fatti così. Sono costituiti da elementi, come questa pompa peristaltica, che è lei, di fatto, con un'intelligenza a bordo, che inietta insulina automaticamente tramite un tubicino, un cateterino transcutaneo che attraversa la pelle del paziente e rilascia l'insulina sotto pancia. Quindi, finalmente, nel 2021 il problema è risolto. Possiamo dire che abbiamo ripristinato la qualità della vita al 100%. In parte sì, ma siamo lontani dall'avere una soluzione veramente ottimale per i pazienti diabetici. Perché? Perché questo cateterino transcutaneo ogni tanto si infetta, quindi va sostituito periodicamente con dei piccoli interventi. e soprattutto questi sistemi sono tutti esterni. Quindi un paziente deve badare continuamente, costantemente a questi sistemi, deve starci attento. Non può fare, ad esempio, degli sport, non può fare nuoto, non può fare varie cose, in modo almeno spensierato. E poi c'è una questione estetica. Molti ragazzi e ragazze non accettano di buon grado sistemi del genere, anche in altri campi, perché di fatto si vedono all'esterno e non sono ben accettati. Quindi torniamo un attimo ai nostri omini. L'ottimo sarebbe avere appunto qualcosa che sparisce completamente all'interno del corpo. E non ce ne accorgiamo neanche, che fa dimenticare al paziente la propria patologia. Questo è il sogno. Però appunto è un sogno, è un'utopia, è un'fantascienza. Allora, diciamo così, il problema qua è che se io ho un oggetto impiantato, un dispositivo che contiene insulina, insulina abbiamo detto è da cent'anni il farmaco che usiamo per contrastare il diabete, per ricaricare questo serbatoio quando l'insulina finisce, perché dopo un po' finisce, come si fa se è impiantato? Non è che si può fare un intervento chirurgico ogni due mesi, no? Allora, noi ci siamo inventati questa cosa un po' folle, cioè una capsulina piena di insulina e in qualche modo intelligente, che il paziente può inghiottire, può ingerire una volta alla settimana, una volta ogni due settimane, e lei da sola in modo autonomo naviga attraverso il tratto gastrointestinale, viene riconosciuta dal dispositivo impiantato, che fa tutto da solo, la cattura e in qualche modo trasferisce l'insulina dalla capsula al serbatoio impiantato, ricaricandolo. E poi, ovviamente, rilasciando la capsula, che viene poi espulsa. Potete immaginarvi, insomma, come succede questo, no? Io sono molto ottimista, perché questo non è solo un'idea, questo è un prototipo che abbiamo sviluppato e abbiamo anche dimostrato che funziona. E siamo nel 2021. Quindi c'è margine nei prossimi decenni, sicuramente per far diventare questo un prodotto che può aiutare, può migliorare la qualità della vita di milioni di pazienti, di persone. Ma io sono sicuro che nei prossimi 30 anni la bioingegneria svilupperà soluzioni analoghe, magari ancora più ambiziose, per una serie di altri organi. Sto parlando di reni, fegato, cuore, per i quali attualmente l'unica soluzione è il trapianto. Quindi pensate a quante prospettive ci sono. E oltre al diabete, però, e patologie simili, è opportuno anche concentrarsi, secondo me, su patologie che insorgono in un'età più avanzata. Per esempio l'osteartrite. L'osteartrite è una malattia che insorge tipicamente sopra i 50-60 anni e comporta una forte infiammazione e degenerazione della cartilagine. La cartilagine è un tessuto che, diciamo, fa funzionare al meglio le nostre articolazioni. Quindi chi soffre di osteoartrite, di fatto, soffre di una ridotta mobilità, dolore e di una qualità di vita notevolmente ridotta. E per darvi un'idea di quanto è diffusa questa patologia, pensate che metà persone, sopra i 60 anni nel mondo, metà, la metà della popolazione, soffre di osteoartrite. Quindi tantissime. E sopra gli 80 anni, tutte, pressoché tutte, le persone soffrono di una forma di artrosi che nel limite la mobilità e la qualità della vita. Quindi è un problema che ha un impatto enorme nella nostra società che, fra l'altro, sta invecchiando rapidamente. E diciamo che in questo campo una tecnologia che avrebbe un potenziale enorme è quella delle cellule staminali. Cosa sono le cellule staminali? Le cellule staminali sono, diciamo, voi tutti sapete che noi nel nostro corpo abbiamo miliardi di cellule, molto specializzate, ad esempio i neuroni nel cervello elaborano informazioni e controllano altri organi e tessuti. Gli epatociti nel fegato invece sono delle specie di centrali chimiche che producono sostanze utili per il metabolismo, e così via. Le cellule staminali invece non sono specializzate, ma tutti noi le abbiamo. Abbiamo un certo numero di cellule staminali che, stando lì, non hanno un compito specifico, però proprio perché non hanno un compito specifico hanno il potenziale di rigenerare, di diventare qualsiasi cellula o tessuto del nostro corpo. Quindi hanno anche il potenziale di rigenerarlo se questi tessuti sono soggetti a un trauma, a una degenerazione. Ora, lo so, detta così sembra un po' facile, e in effetti non lo è, non è assolutamente così semplice. Queste cellule non lo fanno automaticamente da sole, e la bioingegneria riesce a ingegnerizzare, quindi a far capire a queste staminali cosa devono diventare solo in un numero molto piccolo di tessuti, per esempio la pelle. Però per la cartilagine, per esempio, non ci riusciamo. Non sappiamo quali sono le istruzioni giuste da dare alle cellule, è come se mancassero loro, mancasse il libretto di istruzioni, per diventare tessuto cartilaginio nuovo. E noi stiamo cercando di capire qual è il libretto di istruzioni. Come si fa? È complicato, però si può fare. Stiamo studiando dei nanomateriali, quindi degli omini ancora più, molto più miniaturizzati di quelli di prima, addirittura la nanoscala, che insieme a dei materiali intelligenti possono essere stampati, quindi rilasciati in modo controllato, all'interno dell'articolazione, mediante degli opportuni strumenti chirurgici, e poi solidificati in situ, cioè nei punti in cui serve, grazie a uno stimolo luminoso. Quindi usando semplicemente la luce, a una certa lunghezza d'onda, questi materiali intelligenti possono essere frizzati, bloccati, stabilizzati nel punto in cui serve una terapia, cioè nei punti in cui la cartilagine è degradata. E poi lo stimolo, il libretto di istruzioni di cui parlavamo prima, è dato da una specie di ginocchiera che produce ultrasuoni. Ora, gli ultrasuoni sono gli stessi ultrasuoni che sicuramente tutti voi conoscete, che si usano per le ecografie, ma, diciamo, usati in un modo un po' diverso. Gli ultrasuoni, se interagiscono con questo materiale intelligente di cui ho parlato, riescono a fornire gli stimoli giusti alle staminali per farle diventare cartilagine. E anche qui, anche in questo caso, dal video abbiamo visto che i risultati di laboratorio ci dicono che questo succede davvero, che è un metodo efficace di differenziare le staminali in cartilagine. Quindi, di nuovo, io sono molto ottimista perché, ripeto, siamo nel 2021 e pensate quindi a quali meravigliose frontiere la bioingegneria ha di fronte e può esplorare. Ora, se pensate che, magari, la qualità della vita, quello di cui ho parlato, non sia una priorità per voi, almeno, perché molti di voi sono giovanissimi, ok, liberi di pensarlo, però tenete presente che l'età media della popolazione italiana oggi è di 47 anni, l'età media di tutta la popolazione. Nel 2050 l'età media sarà di 54 anni, quindi 7 anni di più. Quindi in solo 30 anni noi alzeremo l'asticella dell'età media, dell'aspettativa di vita, di ben 7 anni. E questo sarà possibile grazie a progressi della medicina, però, come dicevo, non ci possiamo e non ci dobbiamo accontentare di questo, perché un po' tutti noi dovremo fare conti con come vivremo la seconda parte della nostra vita. E poi pensate, insomma, a quanto sarebbe bello un mondo in cui nessun anziano avesse pensieri, problemi nell'alzarsi da una sedia e abbracciare proprio un ipote e giocare con lui. Infine, ecco, dopo questo discorso variegato sulle frontiere della bioingegneria, alcuni altri di voi potrebbero pensare va bene, ok, mi hai convinto, tutto bello, bravi, viva la scienza, però io cosa posso fare, no? Oltre ad ascoltare, questo vale un po' forse per tutti gli argomenti, oltre ad attifare per la scienza, cosa potrei fare io se non faccio scienza? Beh, secondo me, personalmente, potete fare almeno due cose molto pratiche. Allora, la prima è prendere le distanze in modo netto da chiunque proponga soluzioni magiche, scorciatoie, soluzioni a problemi, specialmente in ambito sanitario, che non si basano su evidenze scientifiche. E qui ogni riferimento ai Novax è puramente non casuale. La seconda cosa, pratica, molto pratica, che potete fare è far sì che, fare in modo che tutte le persone del pianeta possano accedere a queste tecnologie. E questo, diciamo, perché la bioingegneria, un po' come tutte le tecnologie, dovrebbe essere un bene di tutti. Quindi, se tutti accederanno, o solo una piccola parte della popolazione accederà a queste innovazioni, diciamo, ancora non è scritto. E questo, ovviamente, non dipende da noi scienziati, se accadrà o meno, dipende dalle scelte politiche degli stati occidentali dei prossimi anni. Ora, però, noi siamo gli stati occidentali, voi lo siete. e quindi, fate sentire la vostra voce e, insomma, sottolineate l'importanza della ricerca, ovviamente, ma soprattutto sottolineate l'importanza che ci sia un'ampia accessibilità a queste tecnologie, in modo che le risorse e le tecnologie siano distribuite in modo equo nei prossimi anni. Se tutti insieme lavoreremo verso questo obiettivo, sono sicurissimo che il mondo nel 2050 sarà un posto molto, molto migliore di quello di oggi. Grazie. 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 Grazie.